buonasera benvenuto nando pagnoncelli presidente ipsos buonasera allora nando cosa abbiamo domandato agli italiani questa settimana innanzitutto abbiamo chiesto tra tre possibili misure per contenere i contagi quale giudicata la più utile lo vediamo con il cartello 1 e sono soprattutto le il fatto di poter organizzare la vita per fasce orarie quindi attraverso ingressi scaglionati a scuola nei locali pubblici nei negozi nei posti di lavoro e così via e poi a seguire 16 per cento ritiene che sia più opportuno isolare le persone anziane le persone con patologie a rischio mentre 15 per cento ritiene che sia più opportuno isolare i giovani e poi abbiamo chiesto un parere sulla categoria degli scienziati che stanno aiutandoci a capire questo fenomeno così delicato e così complesso e abbiamo chiesto cosa pensano di questa categoria allora lo vediamo con il cartello 2 46 per cento pensa che stia dando il meglio di sé mentre il 28 per cento di parere opposto sia perché ovviamente come dire le idee portate avanti ai scienziati non sempre coincidono non sono convergenti ma anche perché molto spesso lo stile la dialettica è un po aggressiva e quindi richiamo un po' quella della politica e poi ancora abbiamo chiesto selezionando due affermazioni che spesso troviamo nelle discussioni dalle persone con quale delle due diciamo affermazioni sono più d'accordo quale condividono maggiormente lo vediamo con il cartello 3 la prima affermazione è per fortuna che questa situazione non la deve gestire Salvini e il 38 per cento di questo parere l'altra affermazione era purtroppo la deve gestire Conte e il 37 per cento è d'accordo con questa affermazione quindi vediamo un campione che è veramente spaccato a metà poi ancora abbiamo chiesto un parere su come il governo sta gestendo questa situazione questa seconda ondata di contagi qui prevalgono i giudizi negativi lo vediamo con il cartello 4 e vediamo che sostanzialmente lo scontento riguarda non soltanto le categorie più interessate dai provvedimenti ma diciamo c'è un po' un disorientamento generale rispetto alla gestione attuale di questa seconda ondata della pandemia e poi ancora abbiamo chiesto a cosa dipende da cosa dipende principalmente questa seconda ondata di contagi ed è interessante la risposta del cartello 5 perché quasi due italiani su tre ritengono che siano proprio gli italiani che sbagliano hanno comportamenti sbagliati non non si attengono a quelle che sono le misure di prevenzione 62 per cento la pensa così 29 per cento invece ritiene che siano responsabili il governo e le regioni e poi ancora cosa sarebbe meglio oggi per affrontare la pandemia qui vediamo con il cartello 6 che due italiani su tre il 62 per cento si dichiara comunque a favore di una chiusura mirata nelle zone maggiormente colpite mentre un 18 per cento vorrebbe ancora una chiusura totale come il lockdown di sei mesi fa mentre il 15 per cento preferirebbe un'apertura totale poi abbiamo proposto tre frasi abbiamo chiesto un livello di accordo su tre frasi per riuscire a capire se sostanzialmente è un po venuta meno la preoccupazione da parte dei cittadini si sentono un pochino più protetti rispetto al virus vediamole con il cartello 7 abbiamo chiesto oggi la capacità delle istituzioni sanitarie di isolare di isolare eventuali focolai limitare il rischio di epidemia è molto maggiore rispetto ai sei mesi fa 37 per cento d'accordo ma 53 per cento non lo è ritiene di essere ancora molto esposto e questo era anche presumibile dalla nostra trasmissione grazie a niente